Mancava soltanto lui amici per completare la serie Realme 12, dopo l'X, dopo il 12 5G, dopo il 12 Pro Plus, Realme 12 Plus 5G qui alla prova The Geekers e si comincia come sempre con le sue fotocamere 16 megapixel, 50 megapixel Sony Litia 600 come sensore principale, 8 megapixel grandangolare e 2 megapixel macro molto bello, leggero design total flat rispetto al collega Pro e Pro Plus ma un dispositivo che mi sta piacendo molto e che si sta comportando molto bene in questi primi giorni di prova ovviamente questa è la prova regina delle sue fotocamere e vedremo poi come si sarà comportato in tutte le riprese qui a The Geekers Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!